bolidi è il nuovo libro dello scrittore lucano alessandro falanga che qui con noi per presentare queste 10 storie tra l'horror e il thriller alessandro perché questo titolo bolidi bolidi è un omaggio a uno degli scrittori che mi ha tenuto compagnia sin dall'adolescenza che steven king e riprende il titolo di un romanzo di del protagonista di miseri paul sheldon e bolidi per paul sheldon il capolavoro il suo capolavoro dopo la saga di miseri appunto che però non vedrà mai la luce dopo le vicende con la sua fan numero uno enni che lo imprigione lo tortura fino a distruggere questo capolavoro letterario che lui ha creato un libro molto interessante di villani editore ovviamente si continua sulla falsariga di far from did il primo libro che ti ha visto protagonista e del secondo libro di cui ci parlerai anche perché avremo modo di poter meglio conoscere il filone che riguarda anche bolidi sì diciamo che tutto è nato lo scorso anno con far from dead prima che un horror zombie poi chi non terrorizza si ammala di terrore che è un thriller e poi si ricollega tutto a bolidi che racchiude dieci storie per l'appunto che alcune di queste hanno dato vita anche ai romanzi che ho scritto non a caso la ridente cittadina è praticamente la base per chi non terrorizza si ammala di terrore c'è un filone che collega tutti gli scritti che in sostanza quello thriller horror però chiaramente è un filone che guarda molto la realtà diciamo una visione quasi romeriana di dell'horror una realtà che è trasposta nell'horror e che rende i mostri come una metafora una perfetta metafora di quello che accade situazioni al limite dell'immaginabile che però si ispirano alla quotidianità della vita in che modo appunto proprio per questa visione romeriana come ho detto forse in maniera un po impropria c'è romero nei suoi film porta una critica sociale che lui traspone attraverso i morti viventi gli zombie allo stesso modo attraverso bolidi si cerca di trasporre la realtà di tutti i giorni all'interno di dei dieci racconti quindi ad esempio viene descritto il bullismo il cyberbullismo con la ridente cittadina oppure il la competitività eccessiva della nostra società con l'ossessione del passato oppure la la violenza sulle donne con io le gli altri noi quindi sono diversi temi che vengono trattati e vengono riproposti in chiave horror con chiaramente un una metafora perfetta attraverso l'horror stesso questo libro interessante bolidi che vi invitiamo alla lettura di alessandro falanga può essere considerato in questa epoca in questa circostanza della nostra vita il modo migliore per descrivere la nostra esistenza per quanto mi riguarda si appunto come anche steven king riesce a trasmettere lo stesso messaggio ho cercato chiaramente traendo spunto di portare un messaggio simile quindi la quotidianità all'interno di un contesto molto particolare la metafora horror è particolare proprio perché non è statica è possibile rappresentarli in diversi modi quindi attraverso l'horror zombie attraverso l'horror vampiresco ma anche attraverso figure mistiche che ad esempio sono presenti in una casa nel più classico del diciamo dei film anni 80 di conseguenza la metafora horror è il modo migliore per trasmettere un determinato messaggio che è sempre una chiave di lettura particolare quanto tempo ci è voluto per realizzare questo libro bolli di a dire la verità nasce da lontano ci ho messo otto anni per completare tutte le storie la ridente cittadina che è una storia qui sono molto affezionato è nata otto anni fa poi diciamo che il tutto si è sviluppato nel giro di pochi mesi perché dopo la presentazione e la concorsi letterari di la cena di natale e l'ossessione del passato mi sono reso conto che c'era un bel po di materiale edito e non da poter mettere insieme si può dire che l'idea è antica però lo sviluppo è recente diciamo tre quattro mesi per mettere insieme il tutto alessandro siamo la tua terza opera qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere allora innanzitutto mi voglio godere questo momento perché per me è un traguardo aver pubblicato con villani editore che ringrazio anche per aver accettato la sfida quindi innanzitutto voglio godermi questo momento con la con bolidi con la raccolta di racconti però allo stesso tempo non voglio fermarmi perché sono già in via di sviluppo altri due romanzi tratti proprio da racconti presenti in bolidi seguiranno altre presentazioni di questo interessante libro che vi invitiamo a tenere in considerazione intanto ti ringraziamo per aver voluto presentare sulla nostra emittente web questa iniziativa augurandoti ovviamente le migliori fortune lanciamo l'ultimo messaggio per ricevere meglio il senso e l'obiettivo da raggiungere per questa pubblicazione allora il senso è innanzitutto condividere con quante più persone possibile una passione e poi far arrivare lo stesso messaggio che io cerco di trasmettere attraverso le mie storie grazie in bocca al lupo crepi